mister dopo una sconfitta si astretta con ancora più ansia la domenica domani c'è quindi questa possibilità di un pronto riscatto sì eh abbiamo la possibilità di di riscattarci da brutta prestazione di domenica a capistrello ehm eh niente cerchiamo di di rifare le cose che abbiamo fatto contro il Teramo eh dobbiamo partire da quella partita facendo sì che magari è stato solo un episodio ehm io credo credo perché vedo a lavorare questi ragazzi e vedo con quale impegno lavorano e sicuramente eh domani faremo una grossa partita beh si è lavorato più che sulle gambe sulla testa perché quello che abbiamo analizzato noi è stato che eh abbiamo cambiato dalla partita di Teramo contro il capistrello abbiamo cambiato solo un giocatore eh tra l'altro uno dei più importanti eh è rientrato e e quindi è soltanto una questione mentale perché altrimenti non si spiega eh però come ho detto anche a loro è una cosa dove una squadra forte non può avere mai dei cali di tensione di tensione Grazie a tutti.